Questa è la prima mena, intanto bisogna pasturare ragazzi, se no non si prende un cazzo. In diretta cazzo. Un barbo? Un barbo che è questo. Un barbo? 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 Grazie. Bello cavo che bello, che bel barbo ragazzi, ma che roba. E' arrivato in primo piano. Vai. E' arrivato in primo piano. E' arrivato in primo piano. Eccomi, ecco, questo qua è il capobranco. E' il capobranco, attenzione, questo qui è un animale, proprio una bestiaccia. Va su a prendere le banane, cazzo. E' arrivato in primo piano. E' arrivato in primo piano. E' arrivato in primo piano. E' arrivato in primo piano.